Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo insieme Allora, oggi mi voglio divertire un po' con la Sharnos Anche perchè devo fare le missioni per la Bismarck ragazzi E quindi, dato che mi voglio prendere un po' di soldini Dobbiamo un po' forzare la mano con delle giocate un po' particolari Però vabbè, lo facciamo Allora, matchmaking stabile, tier 7 Quindi siamo a posto Andiamo a vedere come la Sharnos deve essere sempre cattiva Ma quel cattivo proprio cattivo Ecco, voi mi capite, lo so che mi capite Lo so che voi mi capite in tal senso Allora Vediamo un po' Ah, la Wood, quanto è bella la Wood Sto aspettando che finisca questa benedetta campagna Bismarck Per vedere se l'abbassassero di prezzo Mi farebbe piacere giocarci Vediamo Vi tengo in sospeso Anzi, se il video raggiunge i 100 like Compro la Wood ragazzi Così ci facciamo un bel gameplay Quindi, forza con il mi piace E vediamo come va Allora, vi ricordo Il contest è sempre aperto Mancano pochissimi iscritti Coraggio Se vi volete iscrivere al contest C'è il video ad hoc del contest Dove c'è il regolamento E quindi da seguire Allora, il gruppo Stiamo andando A e B Vediamo un po' Se riusciamo a tenere Speriamo che non ci fianchino Che non ci flanchino Da C Staremo a vedere Allora Con la Sharnos ragazzi Bisogna sempre andare abbastanza vicino Perché è una nave Che da lontano non fa molto danno Ve l'ho già detto e ridetto In molti altri gameplay Però Ripeto Perché magari entra da una parte E esce dall'altra Per essere efficaci con la Sharnos Bisogna andare a distanze Abbastanza brevi Quindi sotto i 15 km Sotto i 15 km La Sharnos inizia A essere molto molto cattiva Certo E' lì il problema Se il team non vi supporta Diventa difficile avvicinarsi Perché vi devastano Eh ma E' così ragazzi Allora Un nano Akatsuki Vieni qua che ti mangio No è lontano Phoenix Beh la Phoenix In tier 4 ragazzi Va battezzata Vediamo un po' Se riusciamo a battezzarla Tiro non facile Tiro non facile Però forse Eh Presa Vabbè presa ma Niente Ve l'ho detto Da queste distanze Vedete 15 km La Sharnos E' già tanto Se riesce a fare 3-4 mila danni Eh ragazzi E' così Allora Miyoko 13 km Ecco Questo possiamo fargli male Vediamo Tiro Si sta aprendo Si sta aprendo Forse la svegliamo Eh Eeeh Boom Vediamo un po' Il colpo non sembra male Sta virando parecchio Eh Niente Mannaggia la miseria Purtroppo La Sharnos Ha anche una grande dispersione Qui ho sbagliato io a sparare Eh Però ha anche una grande dispersione La Sharnos Allora Vediamo un po' Se riusciamo A ribattezzarla adesso Eh Ha girato di là Eh vabbè Eh vabbè Niente Eh vabbè Ragazzi Ogni tanto si sbaglia Anche i migliori sbagliano Se la sono fatta Ah Beh Se la sono fatta bene E' andata Vabbè Peccato eh Poteva essere Poteva essere Potevamo fargli male Però Ragazzi Non è sempre domenica Intanto siamo pari a kill Eh Uno a uno Va bene Eh Vedete Abbiamo un Clemson di là Che si sta facendo pericoloso Oh La Fenix Questa è un bel versaglio adesso Questa non la dovremmo Sbagliare al momento Ed è arrivata la cittadella Ed è giusto Ed è giusto La Katsuki È un bel versaglio Peccato che è dietro l'isola Abbiamo anche un Clemson di là Che ci dà fastidio Vediamo un po' Se riusciamo a battezzare la Katsuki Nano maledetto Muori Ah Niente Eh si L'abbiamo preso 2005 Buono L'abbiamo preso proprio di sputo Con lo sputo Proprio Va bene così Abbiamo perso un'altra nave No Vediamo a questo punto Se non ci scompare la Katsuki Proviamo Eh Dai 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 Dobbiamo fargli malissimo Ragazzi Eh l'abbiamo preso Ma Niente è scomparso Kamikaze R Pericolosissimo Cambiamo subito Rotta Andiamo di là Rallentiamo Per evitare la bordata Intanto le nostre secondarie Stanno sparando Arrivano anche i siluri Dall'altra parte Mamma mia Che bordello Algeri Dai forse Ce la facciamo A farci il Kamikaze Si sono Ci sono fatti Il Kamikaze Ottimo Vediamo se riusciamo A farmare All'Algeri Ah Master of Dodging Master Oh Ecco il bel Clemson Porca miseria Oddio Oddio Eccola Ah E' una L'abbiamo presa Maledetta Ne abbiamo presa una Clemson Vicinissimo Molto pericoloso Dai 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 Che lo apriamo Lo apriamo in due Lo apriamo in due Ecco che arriva No No Gli abbiamo fatto Quattro overpenetrazioni Vabbè Curiamoci Continuiamo a Targetizzarlo Con le secondarie Eh si Va giù Dai A posto Ma io così Ce lo siamo levati Dalle palle Eh Bip Oh Non ho fatto in tempo A mettere il bip Peccato Allora Algerì Algerì In avvicinamento Vediamo se Forse la prendiamo bene Eh Presa benissimo Tre cittadelle A casa A casa Si dice A casa Deve andare a casa La partita per te Finisce qui Vediamo se riusciamo A togliere La kill Perché la kill Ce la meritiamo Se riusciamo a farcela Eh Vediamo un po' Eee Boom Eccola che arriva la kill Va bene Va bene così Ragazzi Va bene così Abbiamo preso Ci siamo attestati In maniera Pazza I Pazza in A Però vabbè Sono tutti in A Noi giochiamocela di qua Ragazzi Niesnao in avvicinamento La nostra gemella cattiva Non tanto gemella Però Diciamo Sono simili come navi A parte i cannoni Eee Sta andando piano La puttana Eh si La puttanella Sta andando piano Vediamo se la freghiamo Adesso I cannoni Niesnao Oh Phoenix Ah 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 Fenice La fenice Risorgerà Dalle sue ceneri Mi sa di no Mi sa Eee Boom Due cittadelle A casa A casa Oggi è il tema Chiocciola A casa Ragazzi Hashtag A casa Allora Niesnao Sta facendo Retromarcia Ora è ripartita Ora sta rifacendo Retromarcia Ora è ripartita Vaffanculo Niesnao Maledette Ripartenze Eee Vabbè Colpo Non bellissimo Comunque siamo Già Sei cittadelle Due kill Sessantanovemila Danni Non ci lamentiamo Va bene così Stiamo vincendo Alla grande Ormai la partita Dovrebbe essere Abbastanza Tranquilla Siluri Una marea di siluri In avvicinamento Vediamo se riusciamo A fare Master of Dodging E forse E uno ce lo prendiamo Eee Vabbè Uno lo accettiamo Uno lo accettiamo Maledetto Akatsuki Del cavolo Oh Eccolo No ci sta Prendo Il sederino Forse La prendiamo Bene Stavolta Eee Beh Beh Buono 6500 Confederate Validissimo Allora Siamo attenti Ora Perché stiamo Per entrare Nel range Di siluri Della Della Gnegna Vediamo Di cercare Di evitarli Infatti Metto Tutte le macchine All'indietro La gnegna Ci spara HE Bastarda Spero Che si prenda I siluri A questo punto Eh Forse Se No Mi sa di no Mi sa di no Colpo Diretto Pochi danni Vabbè ragazzi Però comunque sta andando giù Siamo già a 81.000 danni Gli diamo di secondari Si prende sicuramente I siluri Della Sì Qualcosa si prende Penso che vada giù Adesso eh E beh Se ne prende un casino A posto A posto Eee Come si Di nuovo L'akatsuki Eccolo Eccolo E' riscomparso Maledetto Peccato che è riscomparso Eee Niente Facciamoci ancora Più sotto A questo punto Avanziamo Nagato La Nagato I nostri cannoni Gli fanno male Quindi anche dalla distanza Fate dei bei danni Alla Nagato Se il colpo è buono Vedete 7500 Ma è perché la Nagato Si penetra facile Da queste distanze Con i nostri cannoni Sharnos Allora Vediamo un po' Colpo non semplice Perché si sta Chiudendo Vediamo se Ah e vabbè Ce l'hanno tolta Ce l'hanno tolta E vabbè Allora Riprendiamo Riprendiamo Allora Partita semplice Partita semplice Eee I nemici Sono andati Tutti di là Quindi Eee Abbiamo fatto Quello che dovevamo Nel nostro settore Ecco Bello Buono Vabbè 3700 Vediamo Se riusciamo Se riusciamo A farle male Avvicinandoci 1200 2 Anagato si sta Aprendo Quindi Eh Questo forse Eh no L'abbiamo presa 3700 Beh è buono Il 3700 qua è buono Mi sa che va giù Non credo che riusciamo A darle noi Il colpo di grazia Mi sa che non ci riusciamo noi No 900 Dai Beh forse Ah Dai 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 Sì Vai ci siamo fottuti L'ultima kill 3 kill 3 kill 104 mila danni 6 cittadelle Ragazzi Di che lamentarci Non ci lamentiamo Va bene Vi segnalo che in questa partita Sono arrivato Primo Con 1900 di esperienza Partita semplice Niente di particolare Però ci siamo divertiti E Niente Spero vi siate divertiti anche voi Mettete un bel mi piace Aiutatemi A crescere come canale Condividete il video Commentate Se avete Da segnalarmi qualcosa O qualche Particolare Noi ci vediamo La prossima volta Non vi scordate Il contest E Ciao a tutti